Bene, che cos'è che presentiamo oggi? Un nuovo applicativo nato proprio negli ultimi mesi che è GeoTag. Si chiama GeoTag perché unisce la funzione di geolocalizzazione dei mezzi tramite GPS e quella di localizzazione delle attrezzature tramite dei tag BLE. I tag BLE non sono altro che questi dispositivi piccolissimi che vedete qua a destra e che adesso nel corso di questa riunione, fra pochi istanti, andremo ad approfondire. Quello che mi preme dire è che noi però già facciamo da diverso tempo localizzazione di mezzi e di attrezzature. Già tre anni fa, ma in realtà il servizio è nato ancora prima, è stata presentata proprio l'app team che permette di localizzare mezzi e attrezzature durante diverse conferenze tenute proprio da Max che è qui presente durante questa riunione. E allora che cos'è che cambia con quello che facciamo prima e quello che facciamo adesso? Beh, essenzialmente la tecnologia è la stessa. Certo, negli anni ovviamente è migliorata. Tuttavia, oggi vogliamo rispondere non solo alle esigenze dell'ufficio che deve organizzare giustamente le attività di cantiere da un punto di vista pratico, deve organizzare le squadre, deve tracciare quello che succede nei cantieri, ma abbiamo anche la necessità di risolvere una serie di problemi che ha l'imprenditore. Oggi che i prezzi delle risorse stanno aumentando, oggi che ci troviamo di fronte a un momento molto delicato in un settore, quello è, ne ricordiamo, dove non è possibile decidere i prezzi. Quindi quello che è necessario fare per ogni imprenditore, per ogni manager, per ognuno che si occupa di direzione è controllare i costi, perché c'è una serie di costi veramente superflui che potrebbero essere eliminati, ma che però poi alla fine dell'anno andrebbero ad aumentare l'utile d'esercizio. Oggi l'imprenditore si chiede sempre dove sono i miei mezzi, nel senso effettivamente sono nel luogo idoneo dove devono stare, ovvero stanno lavorando, chi li guida si sta regando direttamente in cantiere oppure magari eccede troppo con le pause, oppure come vengono guidati? Perché lo stile di guida del mezzo influisce di gran lunga, nel lungo periodo, nella manutenzione poi di quel veicolo, vengono fatte delle frenate brusche, oppure per esempio si sfora sempre quello che è il limite di velocità, come si fa a controllare un mezzo se non si è presenti? Beh, con la nostra tecnologia vedremo che è possibile farlo, ma anche quanto gasolio consumano. Uno stile di guida influisce anche nel consumo del gasolio e non solo nel consumo, guardandolo dal punto di vista del risparmio dei costi che è sicuramente importante, ma per esempio ultimamente ci vengono chiesti a chiunque ha un'azienda di rispettare una serie di parametri legati all'ecosostenibilità, e tra questi quindi anche il consumo di gasolio, e questi parametri possono facilmente essere reperiti grazie alla tecnologia. Infine, per quanto riguarda il mezzo, non capita, però magari ci chiediamo se qualche volta potrebbe succedere. Qualcuno sta rubando il mio gasolio? Infine, passando alle attrezzature, noi abbiamo un grandissimo problema, ovvero che spesso le attrezzature vengono smarrite. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che uno poi deve riacquistarle sostenendo dei costi inutili. Addirittura alcuni studi dicono che il 30% delle attrezzature acquistate non vengono acquistate perché effettivamente finiscono il loro ciclo di vita e quindi devono essere sostituite, ma vengono acquistate perché qualcuno le ha smarrite. Bene, la soluzione per l'imprenditore che vuole tenere sott'occhio tutti questi parametri è Geotag, ovvero un applicativo sia web che mobile, che permette di controllare in temporale la posizione dei mezzi. Questo vuol dire che anche sotto l'ombrellone si può aprire lo smartphone e vedere dove si trovano tutti i mezzi aziendali. Si possono vedere lo storico dei percorsi e anche lo stile di guida degli autisti. Si può verificare che nessuno rubi il gasolio. E infine, passando all'attrezzatura, si può, sempre grazie a questi tag Bluetooth, si può verificare la loro posizione geografica e poi anche vedere chi è stato ad utilizzarli in passato. Perché se per esempio un attrezzo viene dimenticato, viene smarrito, è comunque possibile vedere di chi è la responsabilità. Perché è troppo facile dire no, non ce l'avevo io. Grazie a questa applicazione è possibile controllare l'ultimo utilizzatore dell'attrezzatura. Andiamo un attimo ad analizzare nel dettaglio questa tecnologia. La localizzazione dei mezzi viene fatta tramite delle centraline. La centralina più utilizzata è una centralina OBD, che io ho anche qua, di piccolissime dimensioni, che si attacca proprio nella presa OBD del veicolo. Quasi tutti i veicoli ormai hanno la presa OBD. Attaccarla è veramente facile, non c'è bisogno di portarla da un meccanico. Si può fare in autonomia, potete farlo voi, potete farlo fare ad un vostro collaboratore. Ma qualora per esempio il vostro veicolo sia un po' datato e non abbia a disposizione una centralina, una presa OBD per attaccare la centralina, esistono varie altre soluzioni. Ci sono centraline che vengono attaccate alla batteria, che possono essere resistenti all'acqua, centraline che vengono attaccate alla presa canvas, che sono fondamentalmente queste due. Oppure, proprio in ultima analisi, centraline, in questo caso però, registrano solamente la posizione GPS, che vengono attaccate all'accendisigari del veicolo. Grazie a questa tecnologia è possibile non solo localizzare la posizione geografica, ma anche per esempio controllare il carburante. Come potete vedere, questo grafico riporta il consumo di carburante nel corso del tempo, in basso vediamo i giorni del mese, ma anche i momenti in cui viene effettuato il pieno. Le righe verdi rappresentano proprio il momento in cui viene effettuato il pieno. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto noi vi diamo il dato sulla quantità di litri di carburante che sono stati inseriti. Quindi voi, per esempio, potete dire, ok, giorno 18 è stato fatto il pieno e sono stati inseriti 60 litri, ma nella carta carburante quanti litri sono riportati? Perché se nella carta carburante sono riportati 80 litri, vuol dire che c'è un'eccedenza di 20 litri che da qualche parte sono andati. E lì allora si può avviare un controllo. Oppure, registra il caso in cui ci possono essere dei picchi negativi di gasolio. E quello sarebbe il caso in cui qualcuno ha prelevato il gasolio direttamente dal serbatoio del mezzo, e quindi anche in quel caso si può attenzionare questo dato e in caso porre delle soluzioni. Sempre per quanto riguarda la geolocalizzazione, non ci limitiamo a vedere il tragitto, ma vediamo anche le soste che vengono fatte dal mezzo. Perché nel caso in cui ci si fermi per un tempo eccessivo, anche in quel caso si può chiedere, ma perché il mezzo si è fermato così tanto tempo in autogrill? Che necessità c'era di fare questa pausa così lunga? Infine, passando alla localizzazione delle attrezzature, essi vengono fatti con dei tag. I tag non sono altro che dei dispositivi Bluetooth di questa dimensione. che non hanno tanto una localizzazione tramite satellite, ma il funzionamento è un pochettino diverso. Ora ve lo spieghiamo. Fondamentalmente la centralina del mezzo, identificata in quest'immagine, che ha un collegamento internet, che vi rassicuriamo e compreso nella soluzione che vi forniamo e quindi non avrà costi aggiuntivi, e che ha una localizzazione GPS, effettua delle scansioni Bluetooth costantemente, che vanno a domandare se nell'area circostante ci sono delle attrezzature associate con delle centraline. Quando quindi questa centralina effettivamente dice, ok, a bordo del mezzo c'è il trapano, viene registrata la localizzazione del trapano, che dipende appunto dalla localizzazione del mezzo, e viene archiviato questo dato che poi è consultabile per tutto il periodo successivo. Il funzionamento appunto è molto semplice, si vedono tutte le attrezzature che ha a disposizione l'azienda e che sono state associate al tag Bluetooth, e poi si vede la posizione in testa come posizione del veicolo che si trova diciamo nella stessa posizione del mezzo, perché si trova l'attrezzatura sopra il mezzo. Come potete vedere questi tag sono facilissimi da installare, è necessario solamente una fascetta, e si possono installare veramente veramente ovunque, come potete vedere, anche in una scala, anche in una transend, anche nei cartelli stradali che spesso vengono persi, vengono dimenticati in cantiere. Tant'è vero che è così facile l'installazione che per esempio noi in azienda li utilizziamo perché li attacchiamo ai nostri caricabatterie del computer, al computer stesso, e quando andiamo in trasferta aiutano noi stessi a non dimenticarci la nostra attrezzatura dal cliente. Quindi questa tecnologia è molto elastica e si può veramente adattare a qualsiasi tipo di strumento, anche per esempio i DP e i DPC. Ovviamente essendo degli strumenti pensati per il cantiere, sono resistenti all'acqua, agli oli, alla polvere e anche al calpestamento, quindi sono veramente adattissimi per essere utilizzati in contesti anche piuttosto complicati e per essere esposti alle intemperie. Adesso vediamo qualche piccola diapositiva che ci fa vedere come funziona l'applicativo sia lato desktop che lato mobile. L'applicativo nasce, come detto inizialmente, da una costola di team. Pertanto, come potete vedere, molte schermate sono simili a quelle di team. La differenza è che in questo caso vengono prelevati solamente i dati fondamentali per l'imprenditore, per la direzione che vuole avere una panoramica dei propri veicoli, delle proprie attrezzature di DP e dei DPC, che vengono appunto tracciati tramite la tecnologia spiegata poc'anzi. La dashboard, quando si entra nel software, è questa. Vediamo al centro una mappa che riporta la posizione real-time di tutti i veicoli, che possono essere anche deselezionati, per esempio per attenzionare solamente il tragitto che viene fatto da uno di essi. E poi a destra vediamo un overview generale di quelli che sono i dipendenti, i relativi corsi in scadenza, i veicoli e le relativi manutenzioni in scadenza, e così anche per attrezzature, DP e così via. Questo permette direttamente quando si fa l'ingresso di vedere anche se ci sono per esempio appunto delle manutenzioni che stanno scadendo, che sono scadute, e quindi è opportuno segnalare alla persona di riferimento di effettuare la manutenzione. Cliccando poi, proprio andando a selezionare il mezzo direttamente dalla mappa, vediamo la persona a cui è assegnato, e quindi l'autista che sta conducendo il veicolo. La stessa cosa, la logica è uguale per le attrezzature, quindi abbiamo a sinistra la lista di tutte le nostre attrezzature, sulla mappa la geolocalizzazione real-time, e la mappa ovviamente può essere vista sia come mappa che come visualizzazione di satellite, cliccando sull'attrezzatura è possibile anche in questo caso vedere la persona alla quale è stato assegnato, la velocità a cui va, l'indirizzo in cui si trova, e così via. Come potete vedere, appunto, qua a sinistra, per esempio, c'è segnato un computer, oppure qua un tablet, perché effettivamente veramente la tecnologia si adatta a qualsiasi dispositivo. Basta avere una fascetta, attaccarlo allo strumento, diciamo, più idoneo e più utile da tracciare, ed è tutto visibile tramite dashboard, ma anche tramite applicazione. Esistono due tipi di applicazione. Quella per il caposquadra, che semplicemente vede i mezzi che gli sono stati assegnati e le attrezzature, e che ha la possibilità, in fase di partenza dal cantiere oppure dalla base operativa, di fare un check e vedere la centrina del mezzo se rileva effettivamente le attrezzature che gli sono state assegnate. Questo che cosa comporta? Comporta che non si andrà più a dimenticare l'attrezzo alla base operativa, e quindi andare in cantiere senza il martello demolitore, comportando quindi il fatto di dover fare un'altra lavorazione perché non si ha l'attrezzo idoneo, oppure di dover sprecare il tempo di qualcuno che dall'ufficio prende un mezzo e lo porta in cantiere. Dall'altro lato invece c'è la vista dell'app Lato Imprenditore, che appena entra, dopo aver fatto il login, può subito vedere i mezzi, le attrezzature, i dispositivi di sicurezza, ma anche le statistiche e gli eventi. Le statistiche, come per esempio quelle sul consumo del gasolio, ma gli eventi, come per esempio il fatto che c'è una frenata brusca, oppure che il mezzo ha subito un tamponamento, e così via. Andando avanti, nel frattempo vedo che ci sono una serie di domande, magari adesso finisco brevemente perché manca veramente poco e rispondo a tutte queste domande. sempre lato vista dell'app dell'imprenditore, abbiamo tutti i mezzi che sono associati a delle centeline, e andando a selezionare il mezzo ci apre una schermata dove diamo una descrizione generale, la centeline che è stata associata, la persona a cui è associato in questo momento, gli eventi che sono stati registrati, i rifornimenti che sono stati fatti, e poi la posizione real time. Come potete vedere, cliccando sulla tendina si ampli e si vedono tutti i dettagli del mezzo, quindi l'anno, la targa, l'anno di fabbricazione, se il possesso è proprietà, piuttosto che leasing, piuttosto che noleggio. Si può, cliccando sull'icona della persona a cui è assegnato, andarlo ad assegnare ad un altro collaboratore, oppure si può vedere a chi è stato assegnato in passato, perché oggi magari vediamo che è assegnato ad Alex Nadine, però vogliamo vedere, per esempio, il 2 luglio, chi è che stava guidando, chi è che stava guidando quel mezzo. Tramite questa visualizzazione al calendario, clicchiamo sulla data, e facilmente vediamo la persona a cui era stato assegnato. Sempre per quanto riguarda i dettagli, possiamo vedere tutte le manutenzioni programmate in scadenza o scadute, gli eventi, come in questo caso frenata brusca, ammaccatura, velocità eccessiva, e tutti i rifornimenti che sono stati fatti. Possiamo vedere, per esempio, che sono stati fatti 43 litri e che in quel momento il mezzo aveva percorso un tot di chilometri. La data successiva a cui è stato fatto un altro rifornimento. E da qui, appunto, vedere anche il consumo al litro e così via. Per quanto riguarda, invece, i dettagli dell'attrezzatura, la logica è molto simile. Vediamo un overview generale in cui c'è la descrizione dell'attrezzatura, la posizione real-time, i tag che sono associati e la versione a cui è affidata. Possiamo assegnare quell'attrezzatura ad un altro nostro dipendente o collaboratore e possiamo, infine, vedere tutti i dettagli dell'attrezzatura. Come, per esempio, chi è che ha utilizzato quel dispositivo in passato e le programmazioni per il futuro. Bene. Noi, ovviamente, da oggi abbiamo messo a disposizione questo nuovo prodotto, però, come detto precedentemente, come detto anche nelle comunicazioni fatte in passato, abbiamo deciso di premiare chi ha dato fiducia alle 59 persone che in questo momento sono presenti in questo webinar, dando un piccolo sconto. Come potete vedere, c'è un sito web che ora vi linkiamo e che vi invieremo successivamente anche per email e per sms, dove sono riportate tutte le informazioni che ho detto in questo webinar, il funzionamento, perché è nato e così via. Come potete vedere, c'è la sezione prezzo. Questi sono i prezzi per le centraline che si compongono nella versione standard, che è quella OBD, di un prezzo di acquisto una tantum più un canone mensile. Ricordiamo che nel canone mensile è incluso anche il traffico dati e la sim multioperatore. È la stessa cosa vale per i tag BLE. Tuttavia, fino a fine luglio, per coloro che hanno partecipato al webinar, c'è uno sconto e un regalo. Uno sconto del 20% sul costo di acquisto e sul canone mensile è inoltre un'ora di formazione gratuita con uno dei nostri tecnici. In particolar modo, quest'ora, veramente vi consigliamo di sfruttarla il più possibile perché il valore commerciale sarebbe di più di 60 euro e avrete effettivamente online un nostro tecnico per un'ora che vi spiegherà esattamente come funziona il software, sia lato app che lato desktop e vi aiuterà soprattutto ad adattarlo a quelle che sono le vostre esigenze di controllo dei vostri asset. Io adesso copio il link, intanto lo metto in chat, così tutti quanti possono navigarlo direttamente adesso. All'interno di questo link c'è una sezione in cui poi potete lasciare i vostri contatti. Quando voi lasciate il vostro contatto, noi nel più breve tempo possibile vi ricontattiamo, chiediamo quali sono i mezzi, quali sono le vostre esigenze e vi proponiamo la soluzione anche numerica di tag e attrezzature da tracciare più idonea alle vostre esigenze. Questo sconto, di cui potete approfittare fino al 31 luglio, però avrete uno sconto del 20% per i prossimi 12 mesi. Un attimo leggo le domande. Piccola parentesi, mi sono dimenticato di dire che ovviamente chi ha già nel proprio pacchetto di licenze il software Team, l'app Geotag è interconnessa con Team, quindi tutti i dati che vedete su Geotag ci saranno anche su Team, le assegnazioni di mezzi e attrezzature che fate su Team ve le ritroverete anche su Geotag. Quindi le azioni vengono ripetute comunque solamente una volta, questo è un po' il nostro mantra. Il dato è uno e va inserito una sola volta e non deve essere ripetuto. per facilitare ovviamente il lavoro di chi utilizza i software che servono a semplificare e non a complicare. Allora, buongiorno, avrei due domande. Come fare a rilevare il gasolo immesso e come fa ad essere sempre connesso alla rete? Allora, praticamente questa centralina che ho fatto vedere poco fa si attacca alla stessa presa dove voi fate attaccare il meccanico quando lo portate il veicolo alla manutenzione. Preleva tutti i dati come se fosse un piccolo computer e tra questi dati anche il livello di carburante che c'è nel vostro veicolo real time. Poi ovviamente questi dati vengono elaborati dal nostro software e vi viene data una risposta in termini di consumo del carburante e poi quando viene fatto un pieno viene registrato l'aumento del carburante. Ovviamente tutto questo a voi viene fornito tramite dei semplicissimi grafici di facile interpretazione. La connessione alla rete viene fatta perché all'interno c'è una SIM multioperatore. Multioperatore vuol dire che prende con qualsiasi operatore quindi non avrete il fatto che magari in un posto prende Iliad in un altro prende Team perché basta che c'è un operatore su tutti quelli presenti che prende e avete il traffico internet e nel costo che avete visto poc'anzi e che trovate nel link che vi ho mandato è già incluso la connessione internet e la SIM quindi non vi dovete preoccupare di fare altri abbonamenti con operatori telefonici. I dati possono essere estratti su Excel quindi poi possono essere riutilizzati e possono essere utilizzati come si vuole tramite Excel. Lo storico degli eventi percorsi potrei sbagliarmi ma se non mi sbaglio lo storico è di sei mesi o forse di un anno su questo magari Max se vuoi intervenire e non ti sentiamo. Ecco sì è configurabile è configurabile possono essere conservati per sei mesi o per un anno ok possono decidere ok è configurabile poi per quanto riguarda gli alert della revisione del mezzo per le manutenzioni periodiche sì arrivano arrivano gli alert lei segna per esempio il fatto che la revisione deve essere fatta ogni x mesi e in automatico arriva un alert che dice attenzione sta per scadere la revisione quindi avverte prima che scade e poi se comunque non viene effettuata la revisione il giorno della scadenza dice ok la revisione è scaduta poni subito un'azione correttiva il tag viene il tag fino a che distanza viene arrivato dal mezzo adesso associato una distanza di 10 20 metri dipende dipende un pochettino anche dal meteo che c'è in quel momento ma assolutamente 10-15 metri sempre viene 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 rilevato perfetto noi come promesso abbiamo sforato di 4 minuti sull'orario che vi avevamo detto ma vabbè ci concederete questo piccolo questo piccolo ritardo il link è quello che vi ho mandato in chat app.tmox.srl slash mezzi e attrezzature vi manderemo un'email comunque ripetendovi questo link in Natale che voi lo potete consultare anche in un secondo momento la promozione è valida solo fino al 31 luglio quindi assolutamente compilate il form e vi ricontatteremo e troveremo assolutamente la soluzione più adatta alle vostre alle vostre esigenze io ringrazio veramente tutti quelli che hanno partecipato e che ci hanno dedicato il loro tempo e insomma ci sentiamo presto telefonicamente tramite mail ringrazio tutti anch'io grazie mille e una prossima a vostra disposizione arrivederci